Al decimo, Caso vince un contrasto appena fuori la propria area, avanza tranquillo, palla al piede per tutto il campo indisturbato, poi allunga Beccalossi. Pochi passi e Grambotta a mezz'altezza che fa secco il rientrante portiere Ascolano Pulici. Chiaro che a questo punto tutti si aspettano che Lascoli esca dal torpore.